Benigno Dorazio aderisce ufficialmente a Fratelli d'Italia, oggi l'annuncio in questa conferenza stampa in provincia, come mai questa scelta? Diciamo che ho risposto a numerosi solleciti sia di Giandonato Morra che di Etel Sigismondi che mi hanno chiesto di dargli una mano in questa battaglia che si presenta molto difficile ma io credo vincente che riguarda la regione. Il mio contributo sarà innanzitutto in materia ambientale di sviluppo sostenibile e di mettere in campo le competenze che posso mettere per Fratelli d'Italia e poi vedremo anche il discorso di una candidatura che sarà funzionale o meno, se sarà funzionale o meno, a questo progetto. Un po' anticipato la mia domanda, probabilmente verrà candidato per le regionali? Diciamo che c'è un'ampia richiesta in questo senso che proviene dal territorio, che proviene dai vertici, eccetera. Io però ho detto sempre e dico sempre che le candidature sono funzionali a un progetto e non il contrario. Quindi bisogna vedere qual è la mia situazione, qual è il mio miglior contributo che posso dare. Se questa è la candidatura lo faremo molto volentieri. Quando si conoscerà il nome del candidato presidente per il centro-destra in Abruzzo? Noi speriamo quanto prima. D'altra parte Fratelli d'Italia ha esaurito da tempo il suo compito. Ci è stata chiesta una terna di nomi, è stata fornita da ben più di un mese e il tavolo nazionale è in via di convocazione e stanno per convocarsi. Magari di questo ritardo qualcuno ne ha fatto una polemica abruzzese. Mi permetto soltanto di ricordare da tanti distratti che fanno politica sotto il bar a casa che probabilmente ci sono anche delle problematiche nazionali che molti dimenticano facilmente. Cioè c'è una Lega che ha il governo, contrariamente a Fratelli d'Italia e Forza Italia, ci sono state delle grandi tensioni fra Forza Italia e la Lega. Il tavolo nazionale si riunirà fra poco, l'ufficializzazione verrà in questi giorni e finalmente chiuderemo questa cherella anche perché qualche alleato credo che stia giocando più a 3-7 a perdere e non a mettere insieme un programma, un candidato condiviso e a fare quello che l'Abruzzo di centro-destra vuole, ritornare al governo di questa regione. Ma il nome uscirà dalla Terna perché lei sa bene che questi nomi non convincono del tutto alcuni alleati di centro-destra? Beh, su questa non convinzione credo che la non convinzione non parta su un giudizio sulle persone sulla Terna ma sulle ambizioni personali, qualcuna legittima, qualcuna sovraordinata o sovrastimata perché credo che come sa, certe volte nelle riunioni anche di condominio qualcuno si alza e dice queste sono miserie umane, punta il dito, spesso chi è abituato a puntare il dito se lo trova puntato. I nomi della Terna sono tutte e tre delle persone, mi dispiace che ci sto pure io in mezzo ma delle persone che hanno una loro storia e state certi anche un loro futuro politico però certe volte dire non vanno bene senza dire chi sarebbe o quale criterio sarebbe quello giusto mi sembra una comunicazione un po' monca. Benvenga il tavolo nazionale, chiudiamo questa partita e stendiamo un velo pietoso.